salve oggi ritroviamo presso l'officina grifoni gomme e stiamo per andare a conoscere fabio il titolare prego seguitemi fabio come nasce la vostra attività la nostra azienda nasce nel 1974 grazie alla passione di mio padre per questo lavoro sono ormai passati 38 anni durante i quali abbiamo maturato esperienza professionalità che mettiamo a disposizione dei nostri clienti quali servizi offrite ai vostri clienti a vendita assistenza pneumatici di tutte le marche vendita rettifiche certi lega equilibratura e convergenza e ricarica aria condizionata inoltre siamo convenzionati con tutte le migliori marche di frottelissimi offriamo prezzi veramente vantaggiosi su Bridgest, Faristo, Dallop, QD e Michelin inoltre acquistando quattro pneumatici Bridgest sono incluso nel prezzo offriamo l'assicurazione di un anno per rotture accidentali del pneumatico e atto vandalio di un anno per rotture Grazie a tutti. Bene, è giunto il momento di salutarci e ricordate per l'assistenza e la sostituzione dei vostri pneumatici grifoni gomme. Vi aspettiamo, a presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti.